Perché è la prima volta che mi capita questa occasione e speriamo di sfruttarla nel migliore dei modi. Un pubblico così io l'ho mai visto da quando ho il gioco, quindi non vedo l'ora di iniziare proprio per fare bene. Da parte mia l'impegno non mancherà. Un po' di problemi penso che ci saranno perché dovrò rientrare in caserma alcune volte, però non penso che possa creare tanti problemi da parte mia. Io mi impegnerò fino a fondo e speriamo di dare il mio contributo a questa società e a questo gruppo. Per me era un sogno fare la Serie B, questo si è avverato, poi giocare anche accanto a giocatori come Angrabi e Borgovello fa un enorme piacere, quindi sono molto contento. Speriamo di fare bene quest'anno, di fare un buon campionato tutti. Sicuramente non è il colpo di testa, visto la statura. La rapidità è la cosa principale da parte mia. Poi un buon tiro, ecco, basso.